buongiorno a tutti vi saluto con un video perché questa mattina ho indossato una blusa che avevo fatto un paio d'anni fa una delle primi progetti e niente volevo solo farvela vedere come come cade è più o meno come quella che ho fatto del burda ultimamente solo che ho aggiunto dei fiocchetti lateralmente vedete nelle maniche e basta in cotone era uno scampolo che ho trovato al mercato i pantaloni sono di cia e niente per una volta vi faccio vedere indossate le cose che faccio un bacione ciao